Sicuramente il dottor Moni ce l'ha letto, ha fatto i conti dal punto di vista di chi ha controllato meglio il proprio sul Prus, tra noi e la Germania, ha visto che noi siamo molto più virtuosi nel contenere il debito. Poi soprattutto non si considera una cosa, che l'Italia non ha debito privato. Abbiamo delle famiglie, anche se piegate da una crisi, che sono state resiglietti, posseggono tutti una casa. Abbiamo avuto uno sviluppo enorme adesso di una nuova borghesia delle piccole e medie imprese. La produttività non si misura nelle piccole e medie imprese come si può fare per le grandi, dove è tutto standardizzato. Ma sappiamo bene se siamo cresciuti nelle sport, meno di quello che avevamo previsto. Quindi questo Paese è un Paese che ha delle condizioni di economia reale robuste e sane, nonostante sia stato spogliato, si sia agito negli anni passati per dismettere gran parte della nostra grande industria e dell'industria pubblica, si continua ancora, adesso con una politica che spero questo governo finisca di fare. Quindi questa visione dell'Italia come Paese poveretto, che non va bene, è una visione assolutamente sbagliata. L'Italia è il secondo produttore manifatturiero europeo, l'ottavo al mondo, ha una base industriale ancora potente, è riuscito a rispondere alla crisi. Naturalmente le banche hanno i loro problemi, questo lo sappiamo tutti, grazie anche alla politica del governo Renzi, che mentre tutto il mondo favorisce il credito cooperativo, qui, voglio dire, distruggono quello che in America invece si appoggia, in Germania è il cardine le banche locali dello sviluppo economico. Quindi queste cose qua sono tutte favole che il dottor Monici, che ha parlato prima, a lui non crede. Chi ci crede? Ma fa bene a crederci, perché è il pensiero nominante, è il mainstream. Sono i vent'anni di ciampismo e di europeismo cieco e sciocco che ci hanno portato ad una situazione molto difficile. Continuate pure e vedrete che però la crisi dell'Europa è scritta nella storia. Bisognerà riscrivere i trattati di Mastra e di Mastra. Adesso del Monaco, professore Sapelli, una risposta sintetica al massimo, per cortesia. Non teme che lo stop paventato dal ministro dell'economia a queste due misure metta a rischio l'esistenza del governo? Reddito di cittadinanza e flattazzo? Ma no! No? Ok, del Monaco? No!